Musica Buonasera, questa sera si inaugura l'ottava edizione del Festival Mito Settembre Musica. Per l'occasione suonerà la Budapest Festival Orchestra, direttore Ivan Fischer. Buon ascolto. Signore e signori, buonasera. Prima del programma, i musicisti dell'orchestra ed io personalmente vorremmo rendere omaggio ricordare il maestro Claudio Abbado con un corale di Johann Sebastian Bach. Grazie. Un gioiello per Milano ed è un gioiello per Torino. E quello che è importante è che è una proposta di musica e di cultura diffusa sul territorio. Questa credo sia la cosa più importante. Una cultura diffusa, una musica diffusa. Quest'anno addirittura siamo in due carceri a San Vittore e a Bollate. Quindi è la diffusione ed è un grande parco scenico che va da Milano a Torino. Grazie. 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 Qui siamo alle Gallerie d'Italia. Siamo assistendo allo streaming live del concerto inaugurale del Festival Mito tenuto alla Scala. Sono veramente emozionata perché dopo tutti questi anni ritornare alla Scala è stato bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera Milano ha dimostrato di essere ancora una volta grande. È veramente un mito. Grazie.